Buongiorno, buona mattina. Parleremo della nostra esperienza di usare TECOL in un sistema molto grande. Questo significa che TECOL si è trasformato per l'account, sistemi di pagamento e così via. L'accounting è molto difficile da lavorare con tutti i linguaggi, ma credo me, in Italia è un poverso perché le leggi sono molto complesse e dovete essere molto flessibili per la modificazione della vostra applicazione. Lo posso dire ogni giorno. La nostra firma è in Italia e voglio descrivere come TECOL ci aiuta per convertire il libro in documenti digitale e dal 1 giulio i documenti digitali diventano documenti elettronici. Quindi vi raccomando la differenza tra il documento digitale e il processo digitale. Niente. No. No. Ok. Niente. La nostra firma ha 70,000 clienti di pagamento e riempia ogni anno circa 2 milioni di invoici e più di più di circa 3 milioni di pagamento records because there are not only invoices but there are payments missing payments and so on mortgage and so on our ecosystem is realized on Linux system we have 100 company server that are located in 70 different locations we have about 1000 of Linux desktop we work completely with the Linux technology and we have delivered about 400 Linux black box on customers location because this customer 66500 take to us documents and but 500 have its own accounting system at home and with accounting system I say orders delivery notes invoices and so on it's like a small ERP realized in TCL our application we use also cloud technology and have some servers always Linux in the Google cloud and in a server farm in Milan languages we do almost everything with the TCL included the system administration tasks we must use a Java on some PDF management tasks because our goal is to be multi-platform so we deliver also client and application on macOS and Windows and we cannot use natively utility like Poplar or other utilities that are in the Linux operating system because of this portability especially we use a Java to divide the single PDF in pages support the text on an existing PDF page and so on all documents produced directly with the application are PDF documents produced using PDF for TCL and a few tasks in base for some wrapper for TCL and Java but forget it databases we are using evenly Postgres as SQL DBMS we have a lot of terabytes of Postgres databases and SQLite for a small customers location and every database is is interfaced via an utility package we have written for rapid application development named TCL RAD the programmer never speaks directly the SQL dialect but talks with objects that provide the correct dialect SQL statement over the database we also use some no SQL database for example the real-time Firebase from Google in this situation we are reading and writing and updating data using the Firebase TCL REST interface for the web we use Apache and Apache Tomcat and on the mobile side we use Android where we can we can potremmo avere una scelta per la piattaforma che vendiamo ai clienti. Quindi, comprovi Android, ok? E ci diamo il telefono mobile o il tabletto. Poi, quando dobbiamo applicare un'applicazione mobile che dovrebbero funzionare su iOS, Android e così via, stiamo all'applicazione, usando native script o Ionic, che sono piattaformi di javascript, che funzionano sui piattaformi. Ok, il primo problema che avevamo già avuto un sistema di account, è di convertire il paper in documenti digitale. e questo è stato realizzato usando il canale standard che i nostri clienti usano. Il primo è più evidente, io prendo i miei invoici e i documenti, ho dato a te questi documenti, devi scannare questo documento con una periferia multifuncciata e poi questo deve essere gestito dentro dell'applicazione. Inoltre, 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 perché molti clienti producono direttamente documenti PDF e sono serviti via email o in qualche modo. Inoltre, il paper è diventato in un lavoro di batch, che sono serviti dal scanner o direttamente dal cliente, via file exchange. inoltre, prendiamo questi batchi, immaginiamo una pagina di cover con un codice speciale che definisce il tipo di documenti, il ciclo attivo, il ciclo passivo, il ciclo generale, il pagamento, e così via, e poi, l'operatore scanna il documento e il documento è convertito in un single SQLite database. per cui, per noi, un batch di documenti è un single SQLite database che contiene metadatta, se l'operatore ha scritto qualche metadatta sul file, e il obiettivo PDF. Il batch è gestito usando un programma pure TQL con un'estensione che, per noi, funziona molto bene, che è il TQL-MU-PDF. Non so se qualcuno conosce questa interfaccia. Si funziona molto bene su tutte le plateforme e abbiamo scritto con questa utilità un servizio dedicato e customizzato un servizio di PDF e un manager come vi mostrerò a voi. D'altro, il nostro servizio di PDF avviene un database in cui mettiamo documenti e metadatta. Quindi, l'applicazione questo è la nostra standard TQL applicazione che è realizzata usando TQL 8.6 e funziona anche su 8.5 e come vedete è una ttk applicazione cland theme e nulla più che TQL-TK. Abbiamo collegato all'applicazione e vi mostro gli operatori che improntano una pagina pagina in la applicazione questo è per esempio ActiveCycle il sistema genera un PDF usando PDF per TQL con un codice che identifiche chi è il cliente e il tipo di documento poi il secondo passo è gestire il batch il batch può essere costruito iniziato da un pdf perché il cliente ha messo un pdf o con un pdf che è stato generato a scanner con scan-to-disc o altre strumenti e passiamo qui e vediamo un batch da qui che Excuse me, this is another problem. Ok, this is the batch. It doesn't work, the Wi-Fi. Yes, my VPN is offline. Ok, I try to show you something else. Ok. Ok, I cannot connect to the system, but I import, I hope everything, I've never tried this on the laptop. So, I import the PDF. If you like, I can connect it to a separate hotspot. Documents. Just a second. TMP documents. I say this is active invoices. At this moment, the TCL called Java to divide this PDF into pages. The pages are assumed to be one page one document. If you use a sunbar code on the first page of each document, the process automates the recognition of the document. At the end, you go inside the PDF documents. And you can order using, this is our PDF viewer. And you can select documents and say, ok, this is the second page of this one. And so on. Here is a canvas with the TCL new PDF interface. That has divided each PDF, creating a photo image, and then managed the viewer. When you click on an image, you see the image on the right side. You can zoom the image or move inside the image, resize and so on. And this is a tool that our operators use very friendly. And it's, the project was a success because in the past year, we have digitalized everything with this tool. At the end, the operator save this Nesculi database, this is a Nesculi database. Save the database into the application database, which is a Postgres database. PDFs are stored as large objects or blobs, depending on the target database, because maybe your target database may be a Nesculi database. The interface is agnostic, you know. And there is the possibility to classify, this is a pre-classification, the generating of metadata related to the document. So, base goes to database, and going to database, there are two possibilities to classify the metadata. The first one, maybe we say OCR, optical character recognition, but it's not a good experience for us, because we have a lot of document types for a lot of customers. We have not a small, a number limited of templates and a lot of document of the same templates. We have a lot of customers, a lot of templates, and OCR was not... We prefer to say H OCR, Homo cogitare rebus. It's best the man think, no? No errors, and the document are going inside very fast. And also at home, using smart working. Then the batch is skewed on Postgres database. And the queue, I try again with the queue. By the way, the queue is, let me say... Okay. We can close this. This is the queue for each document type. I see how many documents are waiting, how many documents have metadata but are not confirmed, and so on. I have the complete monitor of the accounting process. I cannot show to you the batch management, but I have already showed. And at the end, when operator goes to the real accounting systems, he starts to really register the documents using the program for running documents. that is this one. So, the operator has just to say, next documents. The document is shown inside the TQL PDF viewer, and you can complete the accounting record directly with the document and no paper in the office. So, the operator just select the customer, complete the account record, commit the accounting period. And we have all the accounting system chained with the image of the document. Then the documents are sent to long-time preservation structures for having a legal preservation of the documents. This is already done. The electronic invoice, for us, is a small piece of work, because the operator already runs with the documents and the accounting system. The only difference is that the PDF document does not come from scanner or email and so on, but it is extracted from the XML format of the official Italian electronic invoice. So, the single document is not provided by a batch. Directly arrives into the working queue of the operator, using or the certified email or the government channel for running electronic invoice, and already has the metadata necessary to work and complete the record that are inside the XML. Just for your curiosity, I show to you with Firefox. I show to you with Firefox. Ah, la rete non va. Niente. Ok. This is... Ok, I open it with something else. Ok, no, 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 no. This is an electronic invoice officially... Hmm. With Italian... As you see, it is a normal invoice represented inside an XML 3. Here we have a special tag of the XML to put Base64 encoded attachments and this attachment all the company use the attachment for including the PDF, the original PDF of the invoice. Ok, the tools we realized for our work are available for the community, at the end you will see my email address and website which are tcore.rad and tk.rad is a very very high level of abstraction or running tk as graphical front-end against a database instance and now we are working with Postgres, we support tdbc odbc and SQLite native tcl interface. The batch manager could be a tool from which you can derive some tools for managing PDF in a document environment and also a tcl way as I said we use tcl for system administration task and we make a huge use of containers using docker and we built an interface for managing easily docker containers using tcl. We have also realized an update on smt, smtp.tcl because we have added a new TLS import option that can connect to SMTP server that uses natively SSL which is the standard transport for the electronic invoice in Italy. As I said, tips to survive. Of course, working with tcl.tk, we were a little bit in difficult when customer asked us to have web application. And we find the solution that I want, maybe you know already but what is the problem in an Apache project? No, it doesn't work. Okay. Connecting, okay, password. Connecting, okay, password. Connecting. Connecting. Okay. This is... Maybe the password is incorrect. Sì, è corretto. Questo? Questo, sì. No. Ok. Non sembrava. Non. Non sembrava. Non sembrava. C'è qualcosa in la password. Be careful di avere le American keyboard. Ok. Ok. Questa è un'istensione Apache che dà la possibilità di collegare, via un browser HTML5, un sistema di computazione virtuale e un sistema di grafica. Usa Linux. Usa Linux. You can authenticate. You have a... No, must be reloaded. No. No. You can see something... Steve probably went back to the other. Ok. By the way, I speak. Thanks, but it doesn't work. Questa extensione dà la possibilità di collegare a Nix Windows o Wayland nella linea di servizio. Abbiamo scritto un modulo piccolo che sostituisce il manager display, che è la task che chiede il login e il password con il programma TQL. E stiamo incontrando il nostro utilizatore per usare il nostro sistema di applicazione con un browser. E questa è una soluzione che normalmente usiamo per dare una risposta a questa richiesta di usare una soluzione cloud della nostra applicazione. È disponibile per download per l'Apache Foundation. vogliamo ringraziare tutte le comunità TQL per questa meraviglia e l'extensione, soprattutto Cristian, che mi aiutano compilare la versione TQL su Mac e per alcune platforme aliena. E per Vanilla Wish e, ovviamente, Andrew Wish. e il proprietario del kit creatore, non lo conosco il nome. Roy Keane. Roy Keane. Ok. Perché abbiamo usato una versione di TQL con il TK dinamico. C'è un motivo. Il programma utilizza un'interfaccia molto高i livello, non si parla con il TQL. C'è un elemento. Il nostro programma utilizza un'interfaccia molto alto. Sogn настолько. Seleziona. Let's try it once more. Connecti. Just a seconda. Ok. Seleziona. Try it once more. Connecti. Just a seconda. Ok. Paul, hai due minuti per mostrare questo? Hai due minuti ancora? Ok. Ok. Ok, tu vedi tutte le connessioni. Of course, I am System Administrator, I see all the external connections. By the way, from here, I can go... I can go here... Maranello, Ferrari. Ok, this is the system in near, it's really near the Ferrari factory in Maranello, Modena. And authenticate myself with a Display Manager written in TQL-TK. Ok, then I have access to the same application you have seen here with the difference that the monitor... ...probably, if it is not under maintenance... ...works. As you see, the system is quite responsive. And if you have a good... This is a very big site. If you have a good line, it's really, really powerful. Ok, this is the management. And this is... Ok, there is something to do. And this is how our operator from home, Smart Voting, are working on in this application. So I confirm. And this is a real document with the cover page and... ...a real invoice that they are processing. This is completely open source, this interface. And if you have a TK application that... ...should work on web, use this interface because it's very stable, very fast, and very well maintained. In addition to the VNC protocol, this interface runs very well with RDP protocol... ...for accessing Windows Server, directly SecuShell, and Telnet, and many other protocols. Very nice. Ok. Ok. If you have questions... ...and if I'm able to understand the English... ...you're much better English. This is my email address. ...if someone of you want some information. How many? How many? How many? How many? Now... We have... ...totally... ...order invoices and so on. 3067 modules. 3067 modules. Tcl. See? Really, here. And libraries and so on, everything here is Tcl. quasi facciamo tutto in TICOL e più di questo, ma il grande è qui 588.000 di line abbiamo due programmi me, anche io che sappiano su TICOL a un alto livello e 6 più programmi che sappiano solo TICOL e a un alto livello non sappiano che il comando WM esiste, per esempio per esempio abbiamo anche un po' di customizzazione sull'applicazione sul sito del cliente e in mio opinion questo è un successo non per noi per TICOL è un successo in questo ambiente è un successo che è un successo è un successo è un successo di un successo no question anymore ok